Salve a tutti, per questa improvvisazione abbiamo bisogno di un genere, che sarà il genere... Horror! Horror! Perfetto, vediamo una bellissima storia horror, che ha come titolo... Il giallo è scomparso! Il giallo è scomparso... Eh, quello è fallo, è fallo, è fallo, e adesso lei si becco la bella... Il cartoncino giallo... Mi hanno rubato il cartoncino giallo... Certo, tesoro, questa storia che la vai raccontare, secondo te io ci credo, stavi arbitrando... Sì, stavo arbitrando, le tiro fuori la mano, non c'era proprio il cartoncino giallo... Tesoro, sei solo stanco, non ti preoccupare... Guarda, guarda, ti ho fatto una bella spremuta di limoni che ti tira sul morale... Tieni, te li ho pagliati e tu fai da solo... Limoni? Sì, ma... Si sono rossi, non hanno il giallo... Cosa stai dicendo, tesoro? Però sì, mi sta accadendo... Non ho visto più il giallo... Ieri ero in macchina e da verde... Da rosso è diventato verde... Da verde è diventato rosso e non c'era più il giallo... Questa è stata la prima cosa che hai fatto? Sì... E poi dopo non hai visto più il giallo? No... E allora si chiama trauma carico... E però io dico sì... Che fai se ci sei rivolto a me... Ma perché tu incigandisci sempre tutte le cose? Ho capito... Tu stai facendo questo per prendere i soldi della mia assicurazione... Oh... Ecco che cosa ho bevuto ieri... Quella cosa era amara... Ma tu mi stai uccidendo... Finalmente hai capito qualcosa... Sei sempre stato stupido nella vita... Per una volta invece hai capito... Perché lo fai? Perché lo fai? Devi sposarsi con me, Carlo Giallo? Piacere... Il diavolo... Eccolo... Ecco...